Sicuramente c'è stato un rischio grandissimo, c'è tuttora un'emergenza in corso, per fortuna la falda non è stata toccata, però sicuramente i problemi sia al depuratore, sia al fiume Lambro e ahimè anche al Po sono enormi e sono ingenti, per cui io parlerei veramente di un attentato. Poteva essere un disastro ambientale di proporzioni ben più grandi e solo l'intervento della protezione civile e delle istituzioni locali ha limitato i danni. Infatti centinaia di migliaia di metri cubi di idrocarburi di diversa natura, soprattutto olio combustibile e gasolio per autotrazione, fuoriescono dallo stabilimento di Villa Santa della Lombarda Petroli nella notte tra lunedì e martedì. La puzza di gasolio si avverte in tutta la zona e le forze dell'ordine, allertate da numerose telefonate, risalgono all'origine solo verso le 9 del mattino seguente. Alla Lombarda Petroli sapevano già, a quanto pare, e il presidente della provincia di Monza e Brianza, Dario Allevi, accusa. L'azienda Lombarda Petroli non ci ha avvisato di quello che stava succedendo, per cui presumibilmente nelle prime ore della mattina, quando i primi dipendenti andavano a lavorare, perché essendo una corsa contro il tempo, anche un minuto prima sarebbe stato importante. Non hanno omesso di dare l'allarme e hanno anche fatto resistenza poi quando si sono arrivati i soccorsi? Allora, mi dicono che li hanno fatti entrare solo con l'arrivo delle forze dell'ordine, perché probabilmente loro sottovalutando il disastro speravano di cavarsela da soli. Responsabilità che sono al vaglio del sostituto procuratore della Repubblica di Monza Gambardella, che prima di tutto però dovrà scoprire chi ha aperto nella notte i rubinetti delle cisterne contenenti gli idrocarburi. Non è escluso che ci sia un legame col fatto che l'area in questione era sottoposta a un piano urbanistico di bonifica. L'area era già bonificata in parte, stava continuando in parte la bonifica. Esisteva, esiste tuttora un piano urbanistico, una convenzione tra ovviamente l'amministrazione comunale e la proprietà per un recupero globale dell'area, che sarebbe stato fatto a step, in cui qualche step è già iniziato e ripeto, ovviamente prima della costruzione c'è la bonifica del territorio. Fondamentale è il pronto intervento dei tecnici del depuratore di Monza, che hanno convogliato nelle cisterne gran parte della massa oleosa. Il depuratore è danneggiato e tornerà completamente operativo in due o tre settimane. La regione Lombardia ha chiesto lo stato di calamità. Le falde acquifere della zona di Milano e Monza comunque non corrono rischi, mentre il pericolo riguarda il tratto più a sud del fiume. L'osservazione del fenomeno per la regione Lombardia riguarda tutta l'asta dell'Ambro, non solo la parte del Bianzola, dove probabilmente il problema falda nella zona sud di Milano e l'Odigiano è un problema molto più caldo e se qua non esiste un'emergenza falda, probabilmente a sud di Milano esiste un'emergenza falda legato soprattutto alle attività agricole che si svolgono in quel territorio. I tecnici della protezione civile in ogni caso sono ancora al lavoro in diversi punti dell'Ambro per asportare la maggior quantità possibile di gasolio. In questo punto dell'Ambro, come può vedere, sono state emesse delle panne di contenimento per cercare di assorbire ancora quella quantità molto ridotta adesso di idrocarburi che sta uscendo dal depuratore.